Ciao, oggi siamo venuti a Monte San Savino, un comune in Toscana a 20 minuti da Arezzo, 45 minuti da Siena e a un'ora da Firenze. Abbiamo questo rustico che è da ristrutturare, che offre quel fascino del casale toscano che è anche, diciamo, caratteristico della zona. Molti stranieri vengono infatti qui ad acquistare immobili del genere, li ristrutturano e li trasformano in vere e proprie opere d'arti. Seguite. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.